Noi, in quanto indiani, stiamo prendendo ogni cosa dall'Occidente. Qualunque cosa promuova l'Occidente, dal lifestyle all'abbigliamento. Puoi approfondire questo? Alzati un secondo. Girati di qua. Sei un venditore di scarpe? Cos'è quello? È Reebok? Non sei un venditore di scarpe? Allora, perché indossi questo? Ti chiedo. Perché lo indossi? Perché indossi il nome di questa azienda di scarpe, se è un venditore di questa azienda? No. Allora perché? Perché hai visto Usain Bolt? O Magic Johnson indossare qualcosa? Devi capire. Perché lui indossi quella maglietta, viene pagato milioni di dollari. Nessuno ti paga niente. Perché fai pubblicità alla scarpa? Almeno indossa una maglietta Isha. Noi siamo conosciuti per fare tutto gratis. Almeno fai pubblicità per Isha gratis. Perché fai pubblicità a un'azienda di scarpe gratis? Non ti hanno neanche dato un paio di scarpe. Ti sto dando il mio tempo e la mia vita. Vedi questo ragazzo? Alzati. Vedi. Lui? Eh... Tu? Sì. Da quale paese vieni? Vedi. Viene dagli Stati Uniti. Guarda la sua uniforme. Girati. Fagliela vedere. Vedi? Almeno fa la pubblicità giusta. Cosa fai tu? Penso che dovreste riprenderli entrambi. Alzati, alzati. Lascialo. Cosa fa l'India? Cosa fa l'America? Guarda. Girati, girati. Vedi. Quindi, qual è il prossimo passo per te? Ti appenderai due scarpe attorno al collo e andrai in giro? No, qual è il prossimo passo? Adesso è solo scritto. Forse poi indosserai il prodotto e andrai in giro. Quindi, quando si tratta di abbigliamento, una cosa è usare qualcosa che proviene dalla terra. Perché le sostanze organiche hanno la loro influenza sul tuo sistema energetico. Come si sviluppa la tua aura. È importante che la sostanza che indossi sia organica. Non qualche nylon o plastica o qualcosa. E un'altra cosa è, se non lo sai già, l'India ha oltre 120 trame distinte. Se viaggi da distretto in distretto, da una contea all'altra, in ogni contea hanno una trama particolare, una trama unica. Quel tipo di trama non viene fatto da nessun'altra parte. Nessuna altra cultura sul pianeta ha sviluppato così tanti tipi di testili. Ma, come qualcuno mi stava dicendo, se fai una foto in qualsiasi grande città in India, sotto alle ginocchia, se fai una foto alle persone, più del 60% di loro stanno indossando solo abiti da operaio americano. Blue jeans, solo un colore. Ovviamente alcuni sono sbiaditi, alcuni sono stracciati apposta, alcuni hanno dei buchi, alcuni li hanno scoloriti apposta, ma sostanzialmente abiti da operaio. nulla di sbagliato. Non sto dicendo che qualcosa sia sbagliato, ma c'è qualcosa di giusto, non è così? Che qualcosa non sia sbagliato non lo rende completamente giusto. Cos'è adatto per il tempo? Le condizioni? Le condizioni tropicali in cui esisti? Quale tipo di abbigliamento è più adatto? è quello che dovresti indossare. Perché come il tuo corpo si fonde con il clima e l'atmosfera intorno a te, è importante. Per portare questo a un certo livello di agio e di comfort, è molto importante. Voglio che facciate l'esperimento. Quelli di voi che indossano abiti aderenti di nylon su base giornaliera, indossate vestiti comodi di cotone per tre giorni e vedete che effetto fa. Poi decidete. Ma a meno che l'azienda di scarpe non voglia pagarti qualcosa, che tu lo scriva sulla tua... Ti farai un tatuaggio sulla fronte, Reebok? No. Ho sempre... anche alle persone che sponsorizzano i nostri eventi. Dico, mettilo in un posto, non scriverlo dappertutto. Sì, pagano dei soldi perché vogliono dell'esposizione, ma mettilo in una zona adatta esteticamente, non proprio dappertutto. non permetto mai che nessun nome di sponsor sia scritto dietro di me, almeno. Soldi o non soldi. Non riesco a capire perché tu te lo scriva su tutto il petto e la schiena e la faccia e vada in giro con un nome di scarpe. non so nemmeno se indossi quelle scarpe, ma indossi la loro maglietta. Almeno se sei un fan di Tendulkar, scrivi Tendulkar e vai in giro. Sciocco, ma va bene. Non dico che deve essere un giocatore indiano. Ti piace Lionel Messi. Dici Messi e vai. La gente capirà che sei un disastro. La gente capirà, sai. Ma va bene. Almeno apprezzi l'abilità di qualcuno. Vuoi scrivere Bolt e andare. Va bene. anche se non puoi correre come lui. E il tuo sei un suo fan. Va bene. Ma quando sei diventato un fan di scarpe? È ridicolo. Non ha senso per me. se sei fan di un velocista o di un giocatore o di un calciatore o di un giocatore di cricket non importa da dove vengono. Se sei un fan ti piace hai scritto il loro nome sulla tua maglietta. Va bene. Ma perché fai pubblicità per un'azienda di scarpe o un'azienda di sigarette e questa azienda e quella azienda? non capisco. Almeno se ti danno la maglietta gratis ok. Stai indossando una maglietta gratis? Va bene. Lasciala. No. La compri. Non ha alcun senso per me. Non so. Forse mi sfugge qualcosa. Penso siano i lacci. Quindi c'è qualcosa riguardo all'abbigliamento. una cosa è la sua estetica per le altre persone che guardano. Ma la cosa più importante è che il tuo corpo sia a suo agio. No, no. Sto bene. Sono a posto. È questo che non va bene. Che sia così, così, così. È questo che non va bene. Ti dico, passa semplicemente a una fibra organica. Chiudi gli occhi e senti e vedi che effetto fa. Il tuo corpo diventerà a suo agio. Pensi che vada bene essere in diversi stati di disagio. Pensi che vada bene essere agitati. Pensi che vada bene avere prurito e sentirsi scomodi. e senti che vada bene. Penso, apprezzo la tua tolleranza. Io non sono così tollerante sulle cose che non sono comode. A meno che non sia per un certo scopo. Se sei determinato che vuoi vendere diecimila scarpe questo mese, te lo scrivi su tutta la faccia. Il nome dell'azienda di scarpe. Mi va bene. Dopotutto stai cercando di crescere. Stai cercando di ottenere qualcosa. Mi va bene. Quindi, cos'è? Sei un... Stai accumulando per qualcuno? Sei un cartellone pubblicitario per qualcuno? Se ne devi essere uno, almeno fai pubblicità di Isha, ti dico. Stamperemo delle cose grandi. Adesso le mettiamo in un modo discreto qui. Ma se ti piace questo, se indosserai delle scarpe intorno al colno e ci andrai in giro, qual è il mio problema? Apriremo un negozio di tatuaggi. Sulla tua fronte... Amo Isha! Quando sei comunque disposto a farlo, perché dovrei perdere l'opportunità? Pensavo fosse antiestetico fare cose simili. di potenza. No, 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 no... No, 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 no. No, no, Grazie a tutti.